salve ragazzi sono derrick meisters e oggi c'è una nuova premiazione questa è la premiazione più importante allora in questa premiazione premierò appunto il è una premiazione dura ma va fatta allora nato nel 2004 esce viene ancora ancora oggi venduto sulle console più avanzate come xbox 360 è un gioco di una casa editrice che sta facendo tutt'oggi un monte di successo e nel 2013 come scritto la data finale verrà ricreato questo gioco in un nuovo in una nuova parte allora 56 milioni di copie dal 2004 su playstation 2 xbox 220 xbox 360 e ancora oggi migliaia di milioni di copie ancora che stanno vendendo come io ce l'ho appunto per computer questo gioco praticamente è uno dei primi che ha avuto il multiplayer è uno in cui molti grandi youtuber sono nati è un gioco con cui diciamo io ho vissuto che poi ha continuato sto parlando di grand theft auto san andreas un gioco davvero favoloso ambientato nel 1980 mi pare fra 1980 e 1990 al san andreas che sarebbe los santos los angeles san fierro san francisco e las venturas las vegas un gioco davvero favoloso con una storia lunghissima circa 120 missioni un personaggio davvero ottimo texture ottimi per il 2004 ma comunque un gioco che ancora viene cercato grandissimamente dopo naturalmente il grande gta 4 che ha fatto il successo dal 2009 fino ad oggi ecco che oggi catalizziamo per primo gioco gioco migliore appunto grand theft auto san andreas è così che io chiudo ciao ragazzi qui era derrick meisters ragazzi Grazie a tutti.